Il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli è intervenuto nella diretta news di Cilento Channel che ha visto come tema centrale la riapertura dell'ospedale di Agropoli e i suoi ritardi. È un problema che ci trasciniamo da tempo ed è qualcosa di unico in Italia, ha detto Spinelli. Non è tollerabile assistere a questi ritardi ingiustificati. La sanità ha difesa sempre e comunque. Credo si debba fare uno sforzo comune perché l'importanza del presidio sia un valore imprescindibile. Siamo ancora nel pieno dell'emergenza per cui anche le prospettive del territorio sono legate alla riapertura dell'ospedale. In un territorio che vive di turismo non si può non avere un adeguato servizio sanitario. Immaginate quante persone possono guardare con interesse alle nostre zone sapendo di un'area non toccata dal virus con eccellenze territoriali e anche con servizi sanitari adeguati. Mai come adesso c'è bisogno di non perdere tempo. Il sindaco Spinelli ha inoltre dichiarato che secondo lui sia un dovere per i sindaci del territorio fare fronte comune per l'ospedale anche con la partecipazione di organizzazioni sindacali e di quelle del turismo. Poi si è rivolto ad Adamo Coppola, il sindaco di Agropoli, e lo invita a non abbassare la guardia, a non accettare giustificazione grazie anche all'appoggio di tutti i sindaci del territorio. Non è il momento di guardare in faccia a nessuno. Poi ha concluso con un bilancio sul suo comune. Per fortuna abbiamo messo in campo dall'inizio, grazie alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, azioni di controllo intense. Nel mese di marzo abbiamo eseguito più di 18.000 controlli su strada anche nelle ore notturne, verificando in modo molto forte il territorio. Abbiamo chiuso i cantieri prima della regione e acquistato 6.000 mascherine, distribuendole in ogni famiglia con l'obbligo di indossarle. Dal punto di vista del contagio abbiamo retto bene, con cura maniacale dei controlli. Molti l'hanno ritenuto eccessivo e mi dispiace, ma se oggi riusciamo a mantenere alta l'attenzione e garantire zero casi è perché il sistema è stato messo in piedi dall'inizio.